La Federazione Nazionale degli Ordini Medici con il Presidente Anelli sarà a Venezia il primo febbraio 2020, presso la Scuola Grande di San Marco, ospedale civile, per un convegno contro la violenza sugli operatori sanitari. Un evento di livello nazionale con protagonisti, i presidenti e i testimonial provenienti dalle regioni più colpite d'Italia, la Campania, la Puglia, la Calabria. Contributi anche dal Veneto e un docufilm in trailer notturno che racconta le prove e le sofferenze da dentro della nostra categoria. Presenti il Vice Ministro Sileri, il Questore di Venezia e importanti relatori per quanto riguarda anche il fenomeno con i dati INEI 2019 su tutto quanto il territorio nazionale.